Sei stanco di stati bollenti nel tuo capannone dove gli operatori non sono produttivi al 100% e dove addirittura i macchinari si fermano? Adesso, in questo video, vediamo come risolvere questo problema climatizzando il capannone. Climatizzare un grande ambiente come un capannone è una sfida complessa. Non è come climatizzare un'abitazione o un ufficio. Ci sono molti parametri da tenere in considerazione per climatizzare il vostro capannone. La tipologia costruttiva, la zona climatica, le fonti di calore all'interno, l'esposizione. Tutti questi parametri devono essere considerati per il dimensionamento di un buon impianto di climatizzazione. Inoltre, climatizzare non vuol dire raffreddare e basta. Climatizzare vuol dire controllare la temperatura e l'umidità in modo che siano ottimali per chi è nell'ambiente. La specializzazione nel settore della climatizzazione industriale e gli anni di esperienza accumulati ci danno la possibilità di risolvere il vostro problema del caldo e dell'umidità eccessiva che vi impedisce di essere produttivi al 100%. Qualsiasi sia la vostra esigenza, il vostro settore produttivo e la vostra tipologia di capannone contattateci al nostro sito giacomini.energy e saremo lieti di offrirvi la soluzione migliore per voi. Grazie a tutti.